Il terzo valico è un'opera che come è stato detto bene questa mattina anche dal segretario generale della nuova autorità di sistema è fondamentale per lo sblocco del traffico merci dai porti, dai quattro porti dell'autorità di sistema verso il nord Europa quindi è un'opera strategica e il fatto che questa riforma delle autorità portuali abbia portato una nuova governance una nuova linfa vitale, nuove capacità organizzative all'interno di questo soggetto è molto utile perché ci permette di costruire un rapporto sinergico di collaborazione infatti noi ci sentiamo molto spesso col Presidente e pensiamo alle strategie insieme I passi prossimi? Noi stiamo giudicando gare per all'incirca un miliardo e mezzo di euro quindi i prossimi passi sarà l'esplosione del cantiere quindi l'esplosione in senso positivo naturalmente, l'accelerazione dell'opera la realizzazione di parti importanti della galleria di valico e quindi ci avviciniamo alla scadenza Grazie a tutti